Vedi com'è? Poi c'è anche altro. Poi volendo uno, vedi che qui ci sono dei dettagli? Perché non farli? Io li avevo anche fatti, poi sono stati ricoperti da altre cose. Poi guarda un'altra cosa, guarda come questo angolo che è molto più scuro. Questo? È più scuro? Sì, non l'ho fatto più scuro. Poi, va bene, è il primo lavoro davvero che hai fatto. Sì, è vero. Grazie. 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 Grazie.